Sono almeno 130 le vittime palestinesi causate dai bombardamenti israeliani sulla striscia di Gaza solo domenica. Almeno 90 persone sono state uccise nel campo profughi di Jabalia, nel nord dell'enclave palestinese, mentre un altro bombardamento nel centro ha colpito una casa, uccidendo 25 persone. Il bilancio delle vittime arriva oltre quota 19.000. Proseguono i combattimenti che Israele ha dichiarato di aver scoperto un enorme sistema di tunnel vicino al valico di Erez, nel nord della striscia, esteso per 4 chilometri e con una profondità di 50 metri. Intanto la popolazione sopravvive grazie ai pochi aiuti umanitari disponibili. Domenica decine di persone hanno circondato i camion entrati dal valico di Rafah, saccheggiandone il carico. Israele ha accettato di aprire uno dei suoi valichi di frontiera con Gaza, Kerem Shalom, per consentire l'arrivo di maggiori aiuti. Aumentano gli appelli a Israele per un cessate il fuoco. In visita al valico di Rafah, 4 eurodeputati di Francia, Svezia e Irlanda, affiliati al gruppo parlamentare centrista Renew Europe, si sono uniti al coro che chiede una tregua. Anche il segretario alla difesa statunitense, Lloyd Austin, in missione diplomatica in Medio Oriente, è diretto a Tel Aviv per persuadere Israele a prendere provvedimenti per limitare danni ai civili. Austin si recrea anche in Bahrain e Qatar.